È nata con il cuore nella parte destra del petto, una malformazione rarissima che ha un'incidenza dello 0,05% rispetto alla totalità delle cardiopatie congenite. Nicoleta, 10 anni, è arrivata dalla Moldavia in Toscana per curarsi. La soluzione al suo problema è stata trovata all'ospedale del cuore di massa della Fondazione Monasterio. È stato il dottor Vitali Pak ad accettare la sfida che il cuore di Nicoleta gli rivolgeva, eseguendo su di lei un intervento straordinario che ha impiegato l'equip per circa 10 ore in sala operatoria e che è stato classificato a livello più alto per complessità e rischio di mortalità. Nicoleta ora potrà condurre una vita normale. La sua malformazione è stata corretta al 97%. Bisogna avere il coraggio e credere nell'equip e io ci credo nei singoli come medici e come persone e nel gruppo, ha detto il dottor Pak, ringraziando i colleghi cardiochirurghi che assieme a lui hanno compiuto questo piccolo miracolo della medicina.